Ok, buongiorno a tutti, mi sentite? Allora oggi andiamo avanti con la carrellata di strutture dati che possiamo usare nei nostri programmi in particolare vedremo i set e le mappe e sono strutture dati con forse meno funzionalità delle liste che avete visto nelle lezioni precedenti ma queste poche funzionalità che ci offrono sono molto potenti tuttavia per poterle utilizzare bene bisogna capire come lavorano internamente perché altrimenti sono la fonte principale di errori nei nostri programmi Ok, quindi cercherò di spiegarmi nel modo migliore possibile ma se avete dubbi, domande interrompetemi pure perché capire questi pochi concetti cioè in realtà non sono pochi ma capire i concetti di oggi è molto importante per non commettere i più comuni errori in Java Ok, partiamo dai set i set modellano degli insiemi e quindi a differenza delle liste sono strutture dati che non possono contenere elementi duplicati Ok, mentre in una lista possiamo avere ad esempio due interi con lo stesso valore nei set no Vabbè, questo è l'albero del collection framework ci concentriamo adesso sui set e vedremo in particolare come implementazione di questa interfaccia vedremo in particolare gli hash set Allora, questo è quello che offrono bene o male tutti i set quindi l'interfaccia, i metodi offerti dall'interfaccia vedete che rispetto alle liste abbiamo molte meno cose ne abbiamo tre in sostanza una add di un elemento nel set, nell'insieme la remove e poi la contents che ci dice se un elemento è contenuto o no nel set Ok Le cose importanti sono che non è possibile salvare duplicati e non abbiamo accesso posizionale Ok Mentre nelle liste, nelle array list per esempio posso accedere all'elemento numero 5 della lista qui no, questo concetto di posizione non esiste Ok Ecco, ragioniamo un attimo su questa slide che ci mette un po' a confronto array list, linked list e set in generale in particolare gli hash set Ok Come vedete la add è bene o male un'operazione immediata per tutti e tre le strutture dati Più avanti vedremo di più avanti nel corso vedremo di specificare meglio questi questi termini con un po' di introduzione alla complessità Qui immediata significa che aggiungere un elemento in queste strutture dati non dipende dalla quantità di dati che abbiamo già salvato nella lista Ok, un'operazione immediata Però vedete che le cose cambiano subito con la remove Perché cambiano con la remove? Perché per rimuovere un oggetto io lo devo cercare E la ricerca in una lista è molto 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 più dispendiosa che la ricerca in un set che invece è immediata Ok Stessa cosa ovviamente per la contents la ricerca vera e propria lenta nelle liste immediata nei set Ovviamente tutte le altre le operazioni che sono disponibili nelle liste ma che si basano su un accesso posizionale non hanno senso nei set Ok Quindi il concetto è se il nostro programma ha bisogno di queste informazioni basi tipo add, remove, contents molto meglio usare un set se possiamo che una lista Ok Viceversa se ci serve per forza un accesso posizionale purtroppo dovremmo usare le liste che saranno un po' più lente Ok Va bene appunto ci concentreremo poi nel proseguo della lezione sugli hash set che è un'implementazione di questa interfaccia set Appunto questa ripete un po' la slide di prima dicendo anche che quando iteriamo su un set non possiamo essere presupporre un determinato ordinamento Ok Noi non sappiamo come sono salvati internamente questi elementi Ok Quindi diciamo che non possiamo scorrerli in ordine Ok Mentre in una lista parto dal primo elemento la scorro tutta fino all'ultimo in un set non so in che ordine questi elementi riesco a a scorrerli Ok questa è un'altra differenza C'è poi un'altra implementazione che forse usiamo un po' più di rado che sono i link dash set che hanno delle informazioni aggiuntive internamente che ci permettono di avere un ordine predicibile Ok mentre lo scorriamo possiamo sapere l'ordine in cui riusciamo ad estrarre i dati e tipicamente questo ordine è quello con cui li abbiamo messi dentro Ok Questi sono i costruttori ma direi che è abbastanza irrilevante questa slide Dobbiamo però capire perché queste operazioni sono velocissime nei set Ok Come mai a differenza delle liste qui riusciamo ad avere l'aggiunta la rimozione e la ricerca praticamente immediata Beh perché internamente queste strutture dati si basano sulle hash tables non so se siete pratici con le hash tables se l'avete mai sentito nominare sono delle strutture dati che permettono di implementare un array associativo Che cos'è un array associativo? Un array associativo è un array quindi un vettore un insieme di elementi che però non usa un indice per memorizzare l'informazione ma usa un'altra cosa ad esempio una parola ok io associo alla parola a pippo il valore 25 ok e questo valore questa cosa non valore scusate questa informazione che io uso al posto dell'indice per salvare i miei elementi è detta la chiave ok abbiamo bisogno di definire un po' di termini appunto un set salva delle chiavi noi possiamo definire u come l'universo di tutte le possibili chiavi ad esempio supponiamo che il nostro problema è di salvare gli studenti del politecnico o gli studenti di questa di quest'aula con un hash table la chiave potrebbe essere il nome ok di questo studente allora l'universo u è l'insieme di tutte le parole perché io uso come chiave una stringa ok k invece è l'insieme di tutte le chiavi che hanno senso nel mio problema ok in questo caso tutti i nomi degli studenti del politecnico beh per costruire un hash table quello che ci serve è una funzioncina magica che chiamiamo hash function che ci permette di trasformare gli elementi dell'insieme k ad esempio i nomi degli studenti del politecnico in un numero in un indice dopodiché questo indice si usa all'interno di un semplicissimo array ok quindi il concetto è prendo la mia chiave gli applico una funzione una hash function che trasforma questa chiave in un numero uso quel numero come indice in un array dove quell'array è il luogo in memoria dove io salvo le informazioni ok a questo punto questa slide dovrebbe farvi capire perché l'accesso e la ricerca è praticamente immediata perché quando io inserisco un oggetto dentro a un hash table utilizzo la sua chiave la sua chiave che viene trasformata in un codice in un numero questo numero è usato come posizione in quell'array di prima ok quindi so direttamente dove in che posizione andare a mettere il mio oggetto viceversa quando devo cercarlo il procedimento è lo stesso a partire dalla chiave che voglio cercare la trasformo in un numero quel numero è direttamente la mia posizione in quell'array e io so dove andare in memoria a prendere l'oggetto che mi serve ok non ho bisogno di scorrere dall'inizio perché io direttamente con quella funzione riesco a sapere la posizione non è proprio una posizione esatta vedremo dopo perché ma più o meno dove cercare in quell'array lo so subito ok domande dubbi e che cos'è questa funzione magica beh è una funzione che mappa un set di dimensione arbitraria ok ad esempio se torniamo indietro a questa slide abbiamo il set delle possibili chiavi tutti i nomi degli studenti del Politecnico un set molto grande la funzione H la hash function mappa tutti questi nomi su un insieme più piccolo tipicamente di indici perché ovviamente in memoria non possiamo avere non abbiamo memoria illimitata ok quindi mappa questa funzione il set K che potenzialmente ha dimensione molto grande in un set di dati di dimensione fissata dati numerici che sono le varie posizioni di questo array ok H di K è detto l'hash value ok il risultato di questa operazione l'hash value della chiave che vogliamo inserire o cercare nell'hash table visto che appunto il range di questo vettore è tipicamente limitato quello che si fa è tipicamente la seguente cosa la funzione H converte ad esempio una stringa in un numero ok e poi questi numeri sono compressi nell'intervallo da 0 a M meno 1 dove M è la dimensione di questo array come si fa a comprimere questi numeri al range esatto tipicamente si usa l'operatore modulo ok l'operatore modulo non so se lo sapete semplicemente restituisce il resto della divisione del primo numero per il secondo ok modulo 100 quindi il resto della divisione per 100 mi darà sicuramente un numero che tra 0 e 99 sempre e questo è tipicamente il metodo per comprimere i numeri che mi tira fuori l'hash function in un range prefissato l'altro modo è avere un hash function che tira fuori un numero tra 0 e 1 e dopo lo espando moltiplicandolo per un determinato numero M ad esempio se i numeri da 0 a 100 moltiplicherò per 100 e in automatico vado a finire nel range tra i numeri che mi servono ok ovviamente da come ve l'ho messa ve l'ho spiegato dovreste già capire che qualche problema potrebbe esserci mi sto perdendo qualcosa ma vediamo passo passo e ci arriveremo vabbè queste sono le applicazioni in generale dell'hash function appunto si usano nell'hash table e quindi in strutture dati in vari programmi linguaggi di programmazione ma si usano anche ad esempio per nel campo della sicurezza ok per criptografare delle chiavi eccetera password file eccetera noi ci concentreremo ovviamente sulle hash table e queste sono le proprietà le proprietà principali che un hash table deve avere deve essere sicuramente deterministica cioè alla stessa chiave allo stesso nome dello studente del politecnico deve corrispondere ovviamente sempre lo stesso hash value ok deve essere uniforme cioè la probabilità che la mia chiave finisca in una di quelle posizioni deve essere più o meno la stessa ok può finire nella prima con la stessa probabilità di finire nell'ultima posizione e poi deve avere un range definito ok ad esempio da 0 a m-1 in criptografia deve avere anche altre altre proprietà ad esempio non deve essere invertibile altrimenti io dall'ash della password potrei risalire alla password vera e propria e sapere la password di un utente cosa che ovviamente non è auspicabile facciamo subito un esempio supponiamo di voler calcolare l'hash value di una stringa ok ad esempio come ho detto prima del vostro nome ok vogliamo salvare gli studenti del politecnico e come chiave utilizziamo il loro nome per salvarlo in una in un hash table ok potremmo usare questo semplice metodo che Homer ha studiato per noi consideriamo ogni carattere di una stringa ad esempio del mio nome Alberto di ogni carattere prendiamo il suo codice ASCII che è un numero e ne facciamo la somma ok ne facciamo la somma e poi per riportarci al nostro range al nostro vettore che è a grandezza m utilizziamo modulo l'operatore modulo funziona? secondo voi è una buona funzione di hash questa? mi vengono in mente problemi? dimmi esatto bravissimo un anagramma ad esempio del mio nome produrrebbe lo stesso valore ok quindi io sto dicendo che il mio nome e un anagramma del mio nome dovrebbero andare a finire nello stesso posto in memoria e ovviamente questo crea una collisione ok qui vediamo se applico questa sommatoria a note mi dà 310 se lo applico a ton mi dà anche 310 ma non basta anche l'operatore modulo può introdurre un problema del genere anche se io qui avessi due numeri diversi come vedete qui l'operatore modulo applicato a tutti questi numeri qua 74.000 eccetera 16.000 eccetera dà sempre 42 quindi anche l'operatore modulo ovviamente visto che comprime il range a un valore prefissato può capitare di avere di provocare delle collisioni ok e questo è il problema dell'hash function che vedremo che non è totalmente risolvibile possiamo creare delle funzioni di hash anzi tipicamente altri creano per noi delle funzioni di hash molto resistenti ma la probabilità di avere delle collisioni non potrà mai essere zero tranne che per alcuni casi particolari quando sappiamo che i nostri valori che vogliamo salvare sono fissi e hanno una dimensione non tanto grande possiamo utilizzare il valore stesso come chiave in quel caso si parla di una funzione di hash di hash perfetta non creerà mai collisioni ok però questo significa che noi dobbiamo sapere con certezza che i nostri valori sono fissi non cambieranno mai nel tempo e non la dimensione di questo insieme non è così grande in tutti gli altri casi le collisioni sono inevitabili possono capitare come vediamo qui abbiamo purtroppo due chiavi k2 e k5 il cui hash value è lo stesso e quindi vanno a finire nello stesso slot di questo array in memoria ok quindi sono possibili perché appunto chiavi multiple possono avere possono finire nello stesso slot avendo lo stesso hash value quindi lo scopo è fare il design di hash function in cui il numero di collisioni è minimizzato questo non è il nostro compito ovviamente utilizzeremo delle hash function già fatte da altri ovviamente però quello che voglio il concetto da far passare è che le collisioni possono capitare e si capisce bene dal paradosso del compleanno non so se voi conoscete questo paradosso se noi supponiamo di utilizzare come chiave il vostro compleanno giorno e mese vedete che già con 20 persone c'è il 50% di probabilità che due persone siano nate nello stesso giorno se saliamo a 55 persone c'è il 99 quasi per cento di probabilità che due persone siano nate nello stesso giorno ora non abbiamo tempo di fare questa prova ma io scommetterei 10 euro che qua dentro almeno due persone sono nate nello stesso giorno ok e questo ci fa capire che appunto evitare le collisioni è praticamente avere probabilità zero sulle collisioni è impossibile poi se volete provare fatelo dopo e quindi bisogna avere dei metodi per gestirle queste queste collisioni ok tipicamente sono due i metodi che si utilizzano open addressing e chaining dove chaining è quello che ci interessa perché è quello adottato da java open addressing in realtà è un modo di andare a tentativi tipicamente i due metodi più utilizzati sono il double hashing e il linear probing dove nel double hashing non si ha una sola funzione di hash ma se ne ha una famiglia e tutte le volte che mi accorgo di aver creato una collisione provo con l'altra funzione di hash e vedo se mi genera ancora collisione o no nel linear probing invece tutte le volte che genero una collisione quindi quando un elemento finisce in uno slot dell'array già occupato inizio ad andare per tentativi provando la cella dopo se la cella dopo è libera lo metto lì il nuovo valore e via dicendo ok quindi vado un po' a tentativi nel chaining che forse è più interessante tutte le volte che viene generata una collisione creo una lista nel senso che negli slot dove ci sono più dove vanno a finire più elementi vado a modellare questi elementi a salvare questi elementi in una lista quindi potenzialmente uno slot può contenere o un singolo valore o una lista nel caso in cui più oggetti finiscano lì dentro ok quindi capite bene che prima vi dicevo che le operazioni di inserimento di ricerca e di rimozione sono immediate sono immediate nel caso ideale ovviamente perché se io ho tanti collisioni alla fine avrò tante liste dentro la mia hash table e quindi la complessità aumenta un po' perché nella ricerca sì l'hash value mi dice ok cerca nel terzo slot ma poi devo ancora cercare nella lista associata ok se c'è una lista quindi tipicamente le operazioni sono immediate se la nostra hash function fa schifo la complessità sale ma noi siamo fortunati perché le hash function che ci offre java sono ben fatte e quindi possiamo approssimare dicendo che queste operazioni sono praticamente immediate ok vabbè questo è una visione un po' più estesa del chaining abbiamo l'universo delle chiavi k quelle che a noi interessano e quando queste chiavi producono lo stesso hash value vanno a finire nello stesso slot ma linkate in una lista e quindi adesso il mio hash value non mi dice la posizione esatta dove è il valore ma mi dice insomma la posizione da dove iniziare a cercare ok inizia a cercare da qui e poi aggiustati cerca nella lista ok e questo come si traduce in quello che poi utilizziamo noi si traduce perché tutte le volte che usiamo un hash set in realtà sotto stiamo utilizzando una hash table ok e il bello appunto come vi dicevo prima è che java fa praticamente tutto per noi gestisce il chaining ha una buona hash function quindi le operazioni sono molto veloci ci basta prendere questi set e utilizzarli però vedremo che bisogna fare attenzione bisogna fare attenzione perché le hash function che definisce java sono belle ma non bellissime diciamo in gergo perché ad esempio per alcuni tipi di dato innanzitutto ogni tipo di dato in java deve prevedere un metodo hash code ok un metodo che restituisce l'hash value di quel di quel dato per alcuni tipi di dato questo hash code è già implementato c'è già ad esempio per la stringa c'è già un hash code implementato che funziona molto bene che possiamo utilizzare ok possiamo fare una prova apro eclipse oggi farò degli esempi così al volo quindi non li metterò su github se avete il computer e volete seguirmi potete farlo ma non sono esercizi completi diciamo mi creo vabbè creo un nuovo java project normale non ci interessa l'interfaccia grafica ok un nuovo progetto lo chiamo test hash eccolo qua mi creo magari un package tanto così per il polito punto tdp e all'interno del package creo una classe la classe java chiamiamola main in cui voglio anche il metodo main quindi metto la spunta qui sul metodo ok eccolo qua allora proviamo a definire una stringa nome1 chiamiamola mettiamoci il mio nome e proviamo a stampare il suo hash value nome1 punto vedete che fornisce un metodo hash code ok provo a lanciare questa roba qui eccolo qua non si vede tanto vediamo se riusciamo ad aumentare il font non di qua magari di qua neanche di qua text editor no dovrebbe essere qua eh vediamo se troviamo console se non lasciamo stare ah eccolo qua console edit ok vediamo adesso ok vedete mi ha stampato un numero ok quello è il suo hash value ovviamente l'hash function di definita da java è molto più furba di quella definita da homer se io provo un anagramma cui metto la l prima della a e stampo l'hash code in nome2 anche ovviamente ringraziando ci da due valori diversi ok va bene questo è quello che succede per le stringhe c'è un piccolo problema che per tutti gli altri oggetti tutti gli oggetti che ereditano da object quindi anche gli oggetti che definiamo noi il metodo è sì implementato ok ma si basa solo sull'indirizzo interno in memoria dell'oggetto ok non tiene conto del contenuto vedremo un esempio dopo ma questo ci crea abbastanza problemi dobbiamo ragionarci un po' ed è per questo che tipicamente noi dobbiamo ridefinire il nostro metodo hash code tutte le volte che creiamo un nostro oggetto perché quello di default non serve ai nostri scopi e qui c'è uno dei punti critici penso di tutto il corso è che l'hash code è equals il contratto tra l'hash code e l'equals allora in giro ci sono due metodi equals ed hash code che vanno sempre ridefiniti insieme perché questo è il contratto se due oggetti sono uguali uguali scusate secondo quello che mettiamo nell'equals allora ovviamente l'hash code deve produrre lo stesso risultato ok se due studenti sono uguali vuol dire che sono lo stesso diciamo oggetto quindi devono andare a finire nella stessa posizione dell'array se due oggetti invece non sono uguali è preferibile che abbiano un hash code diverso perché è solo preferibile è per il problema delle collisioni ok può capitare che purtroppo producano lo stesso hash code se la funzione è ben fatta però questo non accade nel 99,9% dei casi ok però vedete che c'è una corrispondenza strettissima tra i due metodi ok questa slide deve entrarvi proprio qua quindi hash code e equals non dovrebbero devono essere sempre definite insieme ok se definite equals quindi override equals nella vostra classe ma non c'è l'hash code state pur certi che fate dei casini e banalmente praticamente non passate l'esame perché create due oggetti che dovrebbero essere uguali sono salvati tutto si pianta eccezione e niente ok quindi questo proprio da tenerlo ben presente poi vediamo vediamo un esempio e ragioniamo sul perché e cerchiamo già di ragionare adesso sul perché perché come vi ho detto prima questi due metodi sono usati insieme ad esempio in un set perché l'hash code è utilizzato per capire in quale posizione dell'array cercare dopodiché una volta individuata l'area devo sapere che potrebbe accadere che lì c'è una lista ok quindi io con l'hash code vado a individuare la zona dove cercare dopodiché utilizzo l'equals per cercare in questa lista ok quindi questi due metodi sono utilizzati insieme chiaro quindi un po' di slide per ricapitolare questo dovreste già saperlo forse l'avete visto anche col professore quando abbiamo due oggetti non si confrontano mai con l'uguale uguale o con un punto esclamativo uguale che significa diverso perché con l'uguale uguale si confrontano gli indirizzi in memoria ok in questo caso ho due oggetti new my data se li confronto con l'uguale uguale e il diverso ovviamente saranno diversi perché sono due oggetti diversi che stanno in due zone di memoria diverse anche se avessero lo stesso contenuto sarebbero diversi quindi my uguale uguale l'uguale uguale si usa solo con i tipi primitivi tipo gli interi si usa liquals quindi liquals lo utilizziamo per avere l'informazione di uguale sulla base del contenuto ok l'hashcode invece ritorna l'hashvalue di un oggetto e come abbiamo visto deve comportarsi in modo coerente con l'equals quindi se due oggetti sono uguali devono produrre lo stesso hashcode questo è il controllo ok vediamo di mettere insieme le cose in un in un esempio allora cancello questa roba qui e mi vado a creare un'altra classe supponiamo di modellare un insieme di studenti come abbiamo detto prima quindi mi definisco una classe student ok in cui vado a metterci un campo private string id magari la matricola e poi che so il nome il cognome private string nome name surname ok semplicissimo mi vado a far generare i vari get resetter ah ora che genero i get resetter mi viene in mente una cosa l'altra volta lavorando con le properties alcune di voi avevano dei problemi sul farsi generare automaticamente da eclipse i get resetter purtroppo è un bug dell'ultimo plugin di java fx che crea un conflitto con l'ultima versione di eclipse ok quindi non ci sono molte soluzioni o ma non ve lo consiglio installate una versione precedente di eclipse o banalmente se usate le properties vi scrivete a mano i get resetter ok quando aggiorneranno il plugin probabilmente sistemeranno anche questo questo baco e per ora è ancora sempre quello e quindi non possiamo farci niente ok invece i get resetter normali funzionano quindi source genero tutti i get resetter in questo caso ok e poi mi genero anche magari un costruttore lo faccio fare anche qui dai clips se lo trovo eccolo qua e utilizzo tutti i campi lui in automatico mi genera il costruttore con i tre campi ok bene adesso torno nel mio main e mi creo due studenti s1 uguale new student di ad esempio id numero 1 nome mario cognome rossi ok dovrò importare student ah no scusate ovviamente l'id non è una stringa utilizziamo un intero ok quindi ovviamente qui devo cambiare qualcosina anche qui non ritorna più una stringa ma un intero e questo è un intero ok l'id tipicamente un numero vabbè nel caso del politecnico no per esempio perché c'è la s davanti però ok primo studente poi ne definisco un altro s2 e lo definisco esattamente come il primo definisco due volte mario rossi adesso proviamo un po' stampare gli asveglio di questi due studenti s1 punto hashcode faccio la stessa cosa per s2 s2 hashcode e proviamo anche a chiederci se questi due studenti sono uguali student1 and student2 equals e mi chiedo se s1 è equals a s2 ok allora cosa ci aspettiamo partiamo dal hashcode sarà uguale avevo visto che dice uguale chi dice uguale beh tu tu l'hai detto ti ho visto chi dice diversi qualcuno e gli altri non rispondono va bene e invece sull'uguaglianza sono uguali ok lui dice sono diversi perché l'indirizzo di memoria è diverso proviamo due hashcode diversi e gli oggetti sono diversi questo perché perché se noi non ridefiniamo niente di default vengono considerati gli indirizzi in memoria ok quindi come hashcode lui fa qualche operazione sull'indirizzo in memoria essendo due oggetti diversi perché sono due new ovviamente sono salvati in punti diversi della memoria e quindi l'hashcode sarà diverso stessa cosa per equals se non ridefiniamo equals vengono confrontati gli indirizzi di memoria sono due oggetti diversi il povero mario rossi ha una duplice personalità purtroppo ok quindi proviamo a sistemare l'equals chiedo ad eclipse di fare l'override di generare hashcode ed equals qui c'è la prima scelta da fare e qui bisogna sempre ragionare sulla base del nostro problema su che campi ha senso definire l'equals solo sul nome sul nome più cognome su tutti e tre i campi solo su uno dipende in questo caso sull'id direi che siamo certi che due studenti ad esempio del politecnico non possono avere la stessa matricola ok mentre potrebbero avere lo stesso nome anche lo stesso nome e cognome ok quindi qui se individuiamo un campo in cui siamo sicuri che è unico un po' come per i database meglio selezionare solo quello seleziono l'id genera ok leviamo per un attimo l'hashcode noi volevamo sistemare l'equals e proviamo adesso adesso gli hashcode rimangono sempre diversi perché l'ho cancellato ma gli oggetti sono uguali perché abbiamo ridefinito equals e in questo caso adesso stiamo controllando il suo il suo contenuto ok adesso proviamo a definirci una lista una lista di studenti un array list student e dovrò importare l'array list ok anche list devo importare aggiungiamo i due studenti alla lista s1 s2 questo lo commento un attimo ok adesso proviamo a stampare la dimensione della lista che ovviamente più students punto size e proviamo a chiederci se la lista contiene mario rossi allora mi chiedo se la lista students punto contents new student 1 virgola mario virgola rossi siamo a capo ok secondo voi lui non lo sa pensa contiene o no mario rossi ok ok lui dice si perché usa equals vediamo si esatto perché questa è proprio la differenza tra sette liste nella lista parte dall'inizio parte dall'inizio scorre tutti gli elementi e fa un punto equals per ogni elemento ok in questo caso addirittura ne contiene due di mario rossi quindi sarà sicuramente true darà equals sia al primo giro che al secondo qui l'hash function non c'entra niente ok proviamo a cambiare la struttura dati sottostante non uso più delle liste utilizzo un set che dovrò importare e in particolare un hash set e dovrò importare anche questo vedete la potenza del collection framework ho cambiato la struttura dati sottostante ma non ho dovuto cambiare nient'altro i metodi rimangono uguali set set adesso conterrà mario rossi proviamo proviamo no e addirittura c'è un altro problema qui mi dice che la dimensione del set è due come due ho inserito due volte mario rossi sono equals ho visto prima che sono equals se non ci credete lo stampo ah ci vorrà più sono equals ma i set non possono contenere duplicati quindi non ha senso che qui mi metta due e poi non c'è mario rossi l'ho messo due volte perché questo e qui salta all'occhio il contratto che c'è tra equals e hash code perché quando utilizzo un set non scorro tutto il set e faccio punto equals per trovare un elemento mi baso sull'hash code per sapere dove trovarlo ok l'equals lo uso in caso di collisioni ma prima faccio l'hash code io purtroppo ho violato il contratto ho ridefinito solo equals ma non hash code quindi hash code continua a essere basato sui riferimenti in memoria ok quindi questi due per un set sono diversi sono diversi e produrranno due hash code diversi questo addirittura è un terzo oggetto che è ancora diverso dagli altri due quindi sicuramente produrrà un hash code ancora diverso ok e quindi qui ho sbagliato a rimuovere l'hash code ok quindi io ora cancello l'equals e mi rifaccio generare no scusate e scoda equals sull'id allora ho volutamente cancellato equals perché visto che i due metodi devono comportarsi coerentemente vi consiglio caldamente se casomai andate a modificare qualcosa a voi a mano nell'equals ad esempio tutte le volte che modificate qualcosa lì ricordatevi di che questa modifica dovrebbe essere riportata anche nell'hash code ok quindi se per caso vi ritrovate a modificare un metodo non fatelo a mano cancellate tutto tutti e due i metodi e ve li rifate generare ok perché se ne modificate solo uno dei due tutto va in palla e devono comportarsi in modo coerente dubbi domande vai non ho capito perché se creo due oggetti stringa e stringo uguali si si invece se creo due oggetti di tipo ok questo perché come ho detto prima per alcuni tipi di dato fondamentali come le stringhe è già stato definito questo hash code e equals ovviamente e quindi per le stringhe noi non dobbiamo mai ridefinire hash code e equals ok anche perché non abbiamo accesso alla classe stringa mentre per tutto quello che facciamo noi dobbiamo ridefinirle ok però vedete che qui la differenza è che nelle liste basterebbe ipoteticamente solo equals mentre nei set no altre domande ok dopodiché ovviamente questa contains molto meglio farla in un set che in una lista ok molto più veloce ovviamente con due elementi questa differenza non si nota avessimo liste o set di diecimila centomila elementi e che cambia drasticamente ok allora abbiamo visto i set vediamo l'ultima struttura dati che vedremo in questo corso in sostanza penso sia le avete già usate no? queste strutture dati però è un ripasso in cui cerchiamo di capire meglio come funzionano le mappe le mappe soprattutto quelle che vedremo noi le hash map sono si comportano in modo simile agli hash set con qualche differenza vabbè le mappe o anche chiamate in altri linguaggi di programmazione dizionari sono un tipo di dato molto presente soprattutto nei linguaggi di programmazione più moderni tipo python e sono implementati tipicamente o con l'hash table quindi quello che abbiamo visto fino ad adesso oppure con delle strutture ad albero che però non vedremo in questo corso la differenza è che con mappe definite tramite una struttura ad albero riusciamo ad avere il concetto di ordinamento ok? mentre nell'hash table così come nei set negli hash set questo concetto di ordinamento non ce l'abbiamo e questo è un po' anche la cosa che ci fa scegliere se utilizzare una lista o se utilizzare un set ad esempio ok? se ci serve ordinare questa struttura dati magari più volte durante il corso del programma e allora utilizzeremo una lista perché il set non ha il concetto di ordinamento altrimenti meglio il set allora le mappe non fanno parte del non derivano dall'interfaccia collection ma dall'interfaccia mappa ok? ci sono varie varie implementazioni noi ci concentreremo principalmente sull'hash table la link dash map un po' come il link dash set ci permette di scorrere in ordine una mappa mentre l'hash table no non possiamo presupporre alcun ordine la tree map invece ci permette di mantenere ordinati i valori che mettiamo dentro ok? questa è l'interfaccia di una mappa abbiamo varie varie operazioni possibili innanzitutto in una mappa possiamo inserire ovviamente a differenza di un set delle coppie chiave valore ok? quindi possiamo salvare delle informazioni un po' più complesse mentre nei set mettiamo un'informazione unica qui possiamo avere delle coppie chiave valore ecco qui forse si può creare un po' di confusione allora la differenza tra ad esempio un hash map e un hash set è che nell'hash set la chiave è tutto quello che ci metto dentro è il valore completo ok? ad esempio torniamo indietro un attimo all'esempio di prima questo è un set e per chiave io intendo tutto il mio student ok? nella mappa invece la chiave la definisco io esplicitamente ok? ad esempio potrei avere delle coppie id student ok? dove la chiave è solo più id e non più tutto lo student quindi in questo caso l'hash code è calcolato solo sull'id dipende cosa vogliamo fare nella mappa possiamo mettere dei valori ovviamente metteremo sia la chiave che il valore possiamo rimuovere a partire da una chiave ovviamente e possiamo controllare se è una chiave contenuta ma anche se è un valore contenuto ok? ovviamente quale sarà più veloce delle due tra queste due contents quella sulla chiave perché l'hash code è calcolato sulla chiave ok? poi ci sono altre operazioni che possiamo fare ad esempio possiamo farci restituire l'insieme di tutte le chiavi con mappa.keyset o l'insieme di tutti i valori con mappa.values l'hash map sono quelle che tipicamente utilizziamo e questo dovrebbe farvi capire meglio quello che vi ho detto a parole io l'hash lo faccio sulla chiave dopodiché il valore segue la chiave naturalmente e quindi però la posizione in cui salvo la mia coppia dipende dalla chiave non dal valore ok? quindi in una mappa possiamo avere valori duplicati ma non chiavi duplicate ok? potenzialmente potrebbero esserci due chiavi diverse che hanno lo stesso valore all'interno e dopo vi faccio un esempio appunto non possiamo avere chiavi duplicate ma valori sì potenzialmente non sono ordinate l'implementazione è basata sull'hash table quindi le operazioni che coinvolgono la chiave sono immediate content value invece che cerca per valore no cercando per valore devi per forza un po' come nelle liste scorrere tutte le coppie e vedere col punto equals se il valore è uguale a quello che stai cercando e questo è quello che vi ho detto a voce le differenze tra hash map e hash set è tipicamente che l'hash map permette di inserire delle coppie chiave valore dove la chiave è associata a un valore mentre nell'hash set l'oggetto stesso è la chiave ok ma ci sono molte similarità e questa tabella riassume le varie operazioni in cui l'unica lenta qui è il content value come vi dicevo mentre le altre che sono basate sulla chiave sono praticamente immediate al netto delle collisioni poi c'è la link dash map che come vi ho detto permette di avere un coccetto di ordinamento tipicamente che quello è l'ordine di inserimento ma non si può riordinare ok so per certo che scorrerò la mappa secondo come ho inserito gli elementi in questa mappa ma poi non posso riordinare riordinare questa mappa se voglio una mappa ordinata devo usare una tree map ok ok allora per concludere andiamo a riprendere un attimo l'esercizio dell'altra volta il nostro bell indovina il numero vado nel model domande fino a qui ok io l'altra volta vi ho detto avevamo cercato di risolvere una possibile estensione che era quella di non permettere all'utente di provare di nuovo lo stesso numero giusto? l'avevamo fatto con le liste banalmente una lista tentativi in cui andavo a mettere i tentativi dell'utente ogni volta con un punto contains andavo a vedere che il nuovo tentativo non fosse già stato provato vediamo era probabilmente in eccolo qua questo era il controllo vi avevo anche detto che non è la soluzione migliore sulla base di quello che abbiamo visto oggi la contains in una lista è lenta rispetto alla contains ad esempio in una struttura dati che usa un hash table vi avevo accennato alla possibilità di fare una mappa ok in cui per esempio la chiave è il tentativo il valore è un valore booleano se è stato provato oppure no ok devo importare la mappa a questo punto qui non è più una linked list supponiamo di fare un hash map di integer boolean devo importarla è chiaro il mio trucchetto avere una mappa in cui ci sono le chiavi in questo caso da 0,99 da 1 a 100 i valori che può provare l'utente e come valore associato ad ogni chiave c'è un valore vero o falso che mi dice se questo tentativo è già stato fatto oppure no ok ovviamente se voglio usare questo trucchetto dovrò inizializzare all'inizio la mia mappa con questi 100 chiavi e questi 100 valori all'inizio tutti falsi perché non li ho ancora provati quindi faccio un for da 1 a 100 in cui nella mia mappa vado a mettere tentativi punto put allora nella mappa la chiave non può essere un int ma deve essere un integer che è una mappa è un tipo di dato che in java wrappa diciamo un intero quindi posso dire new integer di i false ok e inizializzo tutta falsa dopodiché quando faccio un tentativo al posto di fare un add giusto vado a inserire alla posizione tentativo no come si chiama il tentativo t ok il valore true a questo punto nel mio controllo vedete che ho la possibilità di avere un metodo get che data la chiave che in questo caso è il tentativo se in corrispondenza di quella chiave c'è un valore true allora vuol dire che l'ho già provato ok qui utilizzo l'uguale uguale perché è un valore booleano come gli interi si può usare il l'uguale uguale e qui non mi devo preoccupare dell'hashcode della mia chiave perché essendo un integer è un tipo predefinito di java come per le stringhe c'è già ringraziando ok se come chiave avessi usato un elemento un oggetto creato da me allora avrei dovuto ridefinire hashcode e equals ok proviamolo un po' mi dà un errore ancora che non vedo dove ah qui qui sì scusate qui ovviamente devo rifare tutta questa roba qua ok ovviamente devo lanciare il main perché questa è un'interfaccia grafica ok nuova partita provo tentativo 2 troppo basso se provo di nuovo il 2 funziona mi dice che ho già provato questo tentativo ok bellissimo trucchetto molto più veloce della lista quindi il mio controllo qui è molto più veloce del punto contents ma alla fine non ero stato molto intelligente a pensare a questo trucchetto perché secondo voi c'è un po' uno spreco qui è veloce però c'è uno spreco che potenzialmente non è scalabile supponiamo di avere incrementare il range di tentativi da 1 a 100.000 io per il trucchetto che ho utilizzato dovrei allocare 100.000 slot di una hash map tutti con valore falso alla fine io utilizzerò 7-8 tentativi e tutti gli altri erano superfili ok quindi sì con 100 elementi può funzionare ma questa inizializzazione qua mi dovrebbe far venire in mente che è un po' uno spreco un hash map ok qui possiamo usare molto più semplicemente il set tanto i tentativi sono un valore diciamo primitivo perché è un intero un singolo valore e perché non utilizzare un set al posto della mappa definisco un hash set di integer sì ovviamente qui non è più una mappa ma è un set di integer a questo punto l'inizializzazione iniziale non mi serve più devo importare set questo diventa un set questo non c'è più e ovviamente devo cambiare anche qui il controllo adesso ritorna ad essere una contents ma una contents più veloce rispetto alle liste perché si basa sull'ash value che ripeto per essere chiaro qui non dobbiamo ridefinire perché essendo una classe primitiva di java questo è già fatto per noi se avessimo avuto un hash set scusate di studenti avremmo dovuto farlo ok però usando un hash set abbiamo il metodo veloce ma non dobbiamo preventivamente allocare 100 caselle messe a falso ok il set conterrà solo i nostri tentativi proviamolo devo sempre tornare sul main c'è un errore però vedo mi sarò dimenticato qualche mappa ah sì la put ovviamente non è più una put ma è di nuovo un add perché con i set siamo ritornati alle collection vedete che c'è differenza tra le mappe e le collection cambiano i metodi se cambiare da lista set basta cambiare la struttura da mappa set bisogna fare del lavoretto in più run nuova partita e funziona ok ok ora faccio poi commit su su github così ce l'avete domande quindi per ricapitolare un po' quello che ci siamo detti i due o tre punti più importanti sono tutte le volte che potete usare un set o un hash set o un hash map usatela perché è più veloce ok se la usate però occhio a cosa ci mettete dentro ok se ci mettete dentro degli oggetti definiti da voi bisogna ridefinire hash code e equals e queste hash code e equals vanno ridefiniti insieme per il contratto che esiste ok se vi mettete a mente queste tre regoline evitate buona parte degli errori che tipicamente capitano anche all'esame ok grazie a tutti alla prossima